Grazie! Grazie! E ora vi voliamo con questa canzone trattata dall'album Symphony of the Children's Part 2 la canzone in italiano sentita da Guardiani del Destino la carina del Destino direttore No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Grazie a tutti.